così passammo da un ponte all'altro parlando di argomenti che la mia opera non riporta e ci trovavamo sul culmine del ponte quando ci fermammo per vedere l'altra cavità di malebolge e gli altri pianti inutili e la vidi straordinariamente buia come d'inverno nell'arsenale di venezia bolle la pece tenace per rispalmare le navi danneggiate perché non possono navigare invece di navigare chi costruisce una nuova nave e chi chiude con stoppa le fiancate a quella che ha compiuto più viaggi chi ribatte chiodi a prua chi appoppa alcuni fabbricano reni altri avvolgono le sartie alcuni rattoppano la vela minore e altri la maggiore così non per il fuoco ma per arte divina bolliva laggiù una pece densa che rendeva appiccicose le pareti della bolgia io la vedevo ma non scorgevo in essa altro che le bolle che il calore sollevava e gonfiarsi tutta e ricadere come fosse compressa mentre guardavo attentamente nel fondo virgilio dicendo stai attento mi tirò a sé dal luogo in cui stavo allora mi voltai come colui che brama vedere quello che deve fuggire e che una paura improvvisa indebolisce che pur girandosi a vedere non tarda ad allontanarsi e vidi dietro di noi un diavolo nero che arrivava correndo su per il ponte ai quant'era feroce nello sguardo e quanto mi sembrava crudele negli atti con le ali spiegate e leggero nel suo avanzare sulle sue spalle appuntite sporgenti pesava un peccatore con entrambi i fianchi ed egli ne teneva ghernite le caviglie dal nostro ponte disse o malebranche ecco uno degli anziani di santa zita patrona di lucca immergetelo perché io torno ancora in quella terra che ne è ben fornita la tutti i sombarattieri eccetto bonturo per denaro si cambia in sì quello che è no lo buttò giù e tornò al ponte roccioso e nessun mastino sciolto fu mai così veloce a inseguire un ladro quel peccatore sprofondò e tornò su imbrattato ma i diavoli che erano nascosti dal ponte gridarono qui non c'è il santo volto qui si nuota diversamente che nel serchio perciò se tu non vuoi provare i nostri graffi non venire a galla dopo averlo trafitto con più di cento uncini dissero qui devi ballare coperto dalla pece in modo che se ti riesce rubi di nascosto non diversamente i cuochi fanno immergere ai loro inservienti nella pentola la carne con gli uncini perché non galleggi virgilio mi disse affinché non si veda che ci sei mi disse nasconditi dietro una roccia che ti faccia da riparo e non temere tu per qualche offesa che mi venga fatta poiché so come vanno le cose perché un'altra volta mi trovai in una simile varuffa poi oltrepassò l'estremità del ponte e come giunse sul sesto argine dovette assumere un atteggiamento sicuro con lo stesso furore e lo stesso frastuono con cui i cani si avventano addosso al poverello che subito chiede l'elemosina dove si è fermato così i diavoli uscirono da sotto il ponticello e puntarono contro di lui tutti gli uncini ma egli gridò nessun di voi faccia il malvagio prima che mi colpisca il vostro uncino venga avanti uno di voi che mi ascolti e poi si decida di arpionarmi tutti gridarono vada malacoda per cui uno si mosse e gli altri stettero fermi e si avvicinò a virgilio dicendo che gli serve credi ma la coda di vedermi giunto fino qui disse il mio maestro sicuro da tutti i vostri ostacoli senza la volontà divina e il destino favorevole lasciaci andare perché dio vuole che io mostri a qualcuno questo aspro cammino allora l'arroganza lo abbandonò a tal punto che lasciò cadere l'uncino ai piedi e disse agli altri ormai non sia più ferito i virgilio a me o tu che stai ben rannicchiato tra le rocce del ponte torna ormai da me senza timore perciò mi mossi e lo raggiunsi velocemente e tutti i diavoli avanzarono tanto che temetti che non mantenessero il patto così già una volta vidi timorosi i soldati che uscivano da caprona arresi ai patti vedendosi in mezzo a tanti nemici io mi accostai con tutto il corpo a virgilio e non distoglievo lo sguardo dal loro aspetto che non era benevolo essi abbassavano gli uncini e vuoi che lo tocchi diceva l'uno all'altro sulla schiena e rispondevano sì assestagli un colpo ma quel diavolo che parlava con la mia guida prontamente si voltò e disse sta fermo scarmiglione poi disse a noi non si può andare oltre questa fila di ponti perché il sesto ponte giace a pezzi sul fondo e se desiderate andare avanti proseguite per questa roccia vicino c'è un altro ponte che consente il passaggio ieri cinque ore più tardi di quest'ora si compirono 1266 anni da quando qui la strada franò io mando là qualcuno dei miei per controllare se qualche dannato esce dalla pece andate con loro perché non saranno malvagi vieni avanti alichino e calcabrina cominciò a dire e tu cagnazzo e barbariccia sia a capo dei dieci venga inoltre libicocco e draghignazzo ciriatto munito di zanne e graffiacane e farfarello e il furioso rubicante ispezionate attorno alla pece bollente costoro siano salvi fino all'altra fila di ponti che senza interruzione varca le volge ahimè maestro cosa vedo dissi andiamoci da soli se tu conosci la strada senza scorta che io per me non la chiedo se tu sei così prudente come al solito non vedi che essi digrignano i denti e con le ciglia minacciano dolori ed egli a me non spaventarti lasciali digrignare a loro piacimento perché lo fanno per i dannati che bollono voltarono a sinistra sull'argine ma prima ciascuno aveva stretto la lingua coi denti rivolti al capo per un segnale ed egli diede il segnale con una scoreggia sull'argine ma prima ciascuno aveva stretto la lingua coi denti rivolti al capo per un segnale sull'argine ma prima ciascuno aveva stretto la lingua coi denti rivolti al capo per un segnale